E allora torniamo con il fiato residuo a seguire questo tiebreak per Lascianin. La ricezione di Petric, in mano a Paolucci, che vuole l'attacco di Atanasievic. L'attiva copertura di Vujevic, la palla per Petric, la difesa di Parodi e poi Buti ancora. Ancora palla giocata da Balanovic per Kovar, il 1 di Perugia. Ha una mano Parodi, poi Balanovic per Zaitsev, la difesa di Vujevic, poi Paolucci, poi Neva Petric. La tiene ancora, che scambio lunghissimo Balanovic per Zaitsev, il 1. La tiene Stankovic, poi Kovar, poi ancora giocata da Lascianin con Paolucci per Atanasievic, il colpo. La difesa di Zaitsev, mamma mia, Balanovic per Zaitsev, la difesa di Vujevic, che spettacolo. Zaitsev, Atanasievic, mamma mia, mamma mia, ce ne sono 5 stessi a terra, sentite che applauso, che spettacolo. Non voglio esagerare, ma secondo me questo è lo scambio più bello dell'anno, ma non solo di Perugia-Macerata, ma lo scambio più bello dell'anno che si è visto nel campionato italiano. Mamma mia, uno spettacolo fantastico, fantastico. Uno scambio che entra nella storia dei play-off scudetto, bellissimo, chiuso da Perugia, e questo ci riempie di entusiasmo e di orgoglio, ma è stato tutto fantastico. Scambio fantastico perché a volte questi scambi lunghi si basano su delle piccole imprecisioni, invece stavolta tutti i giocatori hanno fatto colpi splendidi, ma i muri delle difese continuavano a tenere viva la palla e poi alla fine ci ha pensato quel fenomeno di Atanasievic a metterla giù.